Noi siamo maggiorelli, quindi meritavamo una cosa di questo tipo, appunto la diciottesima edizione e poi perché gli sforzi che noi facciamo gratuitamente come dono sono quelli che ci portano in giro a promuovere il premio Giorgi e la figura di Giorgi, ha fatto sì che una sera, durante una serata di Enzo Campi, stanchi eccetera, siamo arrivati e abbiamo detto ragazzi non li incontriamo mai perché questo bisogna dirlo, viviamo con sofferenza un po' da lontananza del mondo giovane, dalla nostra poesia, in quell'occasione c'erano diversi giovani e ho detto ragazzi c'è un premio, li pubblichiamo e mentre lo dicevo, ho visto gli occhi di mattina, lei lo sa, lei ha guardato e ha detto almeno una sicuramente partecipa, lei ha partecipato ed è bravissima, Fabrizio sicuramente vorrà spendere ancora due parole però quando ora si legge, come ho detto anche per Antonella, la cura, la perizia letteraria non sembra per noi forse che abbiamo una mentalità un po' all'antica, non sembra conciliabile come una cosa così originale e invece leggerli nella maniera tradizionale veramente c'è tutta la nostra tradizione migliore dentro quello che loro scrivono. Grazie.